Vedete voglio farvi una confessione, in realtà io ho sempre sognato di avere un canale di unboxing e soprattutto di recensioni di prodotti di qualsiasi tipo però capite che non sempre purtroppo la mia attività qui sul tubo di recensore hardware si sposa con tutto il resto non so a volte penso sindrome da shopping canali del genere che bello sarebbe stato poter avere un canale dove farvi vedere qualsiasi cosa in realtà oggi siamo qui in un video un po' più leggero perché ho intenzione di farvi vedere probabilmente uno dei migliori portatili low cost perché non possiamo negare che questo portatile sia effettivamente un prodotto abbastanza economico che in realtà sono riuscito a trovare dopo un po' di ricerche e soprattutto dopo diverso tempo perché ero da un paio di settimane e volevo diciamo evitare di poi di ripiegare sui soliti teclast o comunque prodotti ecco che hanno hardware proprio non recentissimo allora di che cosa stiamo parlando un brand molto conosciuto sul web soprattutto per i cellulari rouge che producono e tutta un'altra serie di device però prima di acquistarlo ho praticamente inviato una mail a tutti i miei partner tra cui anche diversi brand ok di portatili come vi dicevo tra cui anche chui e semplicemente ho chiesto datemi una lista di prodotti ok che in questo momento diciamo state proponendo ad un prezzo intorno alle 300 euro massimo 350 euro perché parliamoci chiaramente forse non è il target ok di prodotto per la maggior parte della mia utenza diciamo siamo dei pc gamer abbiamo delle esigenze particolari però quante volte voi magari siete entrati all'interno di una catena ok come media world non lo so tutte queste catene qua e magari andando uno sguardo ai portatili vi siete accorti che i portatili più economici in assoluto sono portatili che partono dalle 300 euro e danno non lo so hardware indecente ok non hanno nemmeno processori di un certo livello vi ricordate gli hp stream c'è una recensione su questo canale di un hp stream portatili con processori come gli intel atom comunque se andate proprio in questi negozi e cercate effettivamente dei portatili low budget l'unica cosa che riuscite fondamentalmente a trovare forse sono i chromebook che sono una tipologia di portatile effettivamente che a tanti potrebbero interessare però voglio dire c'è chi invece vuole un portatile windows e tra i portatili windows secondo me questo fondamentalmente è uno di quelli che conviene maggiormente perché si trova online a circa 350 euro spesso ha un coupon sconto che vi toglie anche 30 40 euro o cose del genere ed ha un hardware interessante per quello che costa quindi facciamo un attimo un unboxing veloce vediamo le caratteristiche ok di questo portatile allora all'interno la prima cosa che troviamo ovviamente è una scatola abbastanza banale fatta di cartone il packaging non è affatto dei migliori ma a noi interessa poco troviamo un alimentatore che non è diciamo di dimensioni esagerate quindi è ottimo per portarcelo dietro e praticamente non c'è quasi più nulla all'interno della scatola perché quello che troviamo il portatile eccolo qua che vi arriva in una confezione con del polistirolo quindi in perfetto stile diciamo abbastanza low cost ok e quello che trovate è semplicemente un libretto di istruzioni in varie lingue che non vi dice nemmeno chissà che cosa allora le dimensioni dello schermo parliamo di un portatile da 15 pollici e 6 quindi non è un portatile piccolissimo è un portatile che ha uno spessore di meno di due centimetri e è un portatile che pesa all'incirca un chilo e 600 grammi ovviamente qui troviamo tutte le pellicole adesso io ovviamente la prima cosa che faccio è andarmelo a spellicolare per bene questo è il portatile che ha la capacità di piegarsi fino a 180 gradi e la cosa interessante di questo portatile semplicemente è che ha un buon display 1080p come vedremo non è un glossy quindi è un matte è un opaco e ha una batteria da circa 5000 mAh allora dotazione di porte molto rapido poi lo vedremo anche smontato di qua troviamo praticamente il jack per l'alimentazione e la ricarica della batteria uno usb c troviamo un'uscita hdmi che è un'uscita 2.1 se non erro è una usb tradizionale di tipo 3 di qua invece troviamo il jack per le cuffie troviamo un usb 3 che dovrebbe essere un usb 3.2 gen 2 se non mi sbaglio un usb 2 normale e qui troviamo invece un lettore di micro sd card quindi potrebbe essere comunque una soluzione anche per chi magari ha necessità non lo so di leggere sd di fotocamere cose del genere e soprattutto quello che troviamo all'interno è un processore che è un alderlic ok è un n97 un quad core e insieme all'n100 l'n95 sono quei classici processori che troviamo su tantissimi di questi portatili qui tra l'altro abbiamo anche un sensore per l'impronta che ci può aiutare allora a parte il processore su questo portatilo troviamo 16 giga di ram in configurazione single channel perché non abbiamo il dual channel un singolo banco troviamo un ssd sata m2 quindi non troviamo un nvm qui c'è montato un sata infatti adesso lo apriremo da 512 giga e andremo a vedere innanzitutto diciamo com'è fatto all'interno ok allora ragazzi portatile smontato e voi non lo fate perché è un attimo e si spacca tutto perché questi portatili vi ripeto sono fatti con dei materiali abbastanza economici ma per quello che costano vanno benone quando lo andate a smontare è un attimo e vi può partire ok qualche fermo qui sulla sulla scocca e ritrovarvi praticamente con il portatile che non si chiude più come potete vedere mentre aspettiamo che passa questo motorino il portatile è tutta batteria cioè questa è la batteria da 5000 mAh e questa è semplicemente la scheda madre con l'n97 che si trova qui sotto e il singolo banco da 16 giga che è colorful e questo è l'Ssd sata ok di cui vi parlavo è un 512 sempre della colorful in realtà è marcato color fire mentre comunque il la porta è un m2 ok dove è possibile inserire anche degli nvmi io penso che al 99% vengano letti come nvmi qua tra l'altro vediamo anche il modulo wifi e questo è praticamente tutto il pc quindi capite che si tratta comunque di pc fatti in un certo modo per essere quanto più economici possibili qui invece c'è un modulo aggiuntivo dove ci sono le porte ok dove c'è l'USB con il lettore di SD card mentre tutto il resto delle porte è qui vi devo dire la verità allora se mi mettete di fronte un display matte opaco come questo sinceramente lo preferisco rispetto ai glossy per esempio questo qui per farvi capire la differenza è il mio chewy ok vedete come riflette rispetto ovviamente a questo c'è chi preferisce i glossy display io no c'è chi preferisce invece i matte non lo so se lo sto pronunciando bene comunque accendiamolo e andiamoci a vedere un attimo proprio rapidamente almeno l'avvio nonostante sia un sata ok vedete che in base a come lo orientate la retroilluminazione può dare effettivamente fastidio e io già l'avevo avviato e già l'avevo messo in condizioni di poter essere visto e adesso andiamo a fare tutti i vari test ok sul processore vediamo un po' come si comporta in generale cosa più figa che io ho visto è lo sblocco con l'impronta vedete velocissimo per essere diciamo portati da 300 euro ed è molto molto comoda qui siamo sulle specifiche del processore che come vi dicevo un processore economico tdp dichiarato 12 watt quindi è un processore a risparmio energetico alder lake quad core con un max turbo boost dichiarato di 3.6 gigahertz sul singolo core poi vedremo che su tutti e quattro i core in carichi come cinebench tocca massimo i 2 giga e 6 2 giga e 7 da c più z stavo cercando di capire un attimo quanto siano la frequenza della memoria ram ma non mi dà informazioni se non che sono delle core or full vedendo i timing dovremmo essere comunque su delle cl19 a 2666 megahertz delle ddr4 molto probabilmente e quindi niente di particolare adesso vorrei insieme a voi far partire una run di cinebench per vedere un attimo il processore come si comporta soprattutto dal punto di vista delle temperature allora il punto debole dei processori anche a risparmio energetico come sapete è il fatto di scaldare un po' qui in questo caso siamo di fronte a un processore che come limite a 12 watt in realtà il pl1 può arrivare anche fino a 14 15 watt in modalità dinamica come vedete l'unico problema è che in realtà non si può aumentare più di tanto e le temperature sono anche buone perché su tutti e quattro i core il processore riesce bene o male a tenere i 2 gigahertz e 7 2 gigahertz e 8 2 gigahertz e 9 in questo momento e a tenere temperature relativamente buone di 60 65 gradi probabilmente guardate che un sacco di processori ovviamente molto più potenti non della della linea voglio dire n come l'n97 l'n100 l'n95 processori del genere già parlo di processori un po' più della serie h eccetera scaldano molto sui portatili qui siamo con una ventolina piccolina e con un processore che tocca i 15 watt intorno ai 65 gradi punteggio finale in multi core parliamo di 2700 punti che ragazzi ovviamente è un punteggio abbastanza basso ma non stiamo parlando di un processore paragonabile ai processori desktop o comunque ai più costosi processori mobili ma parliamo semplicemente un processore che come potete vedere bene o male ci permette di fare un po di tutto di navigare tranquillamente lo stavo vedendo per esempio prima alcune presentazioni dell'ifa che c'è stata a berlino in questi giorni e quindi la fiera dell'elettronica perché sono stati presentati un po di cose quindi qui potete tranquillamente vedere che alla fine youtube funziona tranquillamente potete navigare in maniera abbastanza veloce con tre quattro pagine aperte per esempio io amo andarmi a vedere un po le ultime novità su videocarts se siete persone che amano lo shopping e volete andare su amazon cioè bene o male la velocità con cui il processore gestisce un numero di pagine fino a 5 6 7 pagine sono in wifi in questo momento problemi non ce ne stanno ho fatto anche in questi giorni altri test con altri software pc mark cosa del genere e bene o male il pc per un uso home si comporta decisamente bene per quello che è il costo alla fine della fiera il web soprattutto amazon per non parlare di altri siti è pieno zippo ok di portatili a basso costo la maggior parte dei quali io ve ne ho sempre parlato sono una cacata cioè hanno dei limiti molto importanti e si è sempre detto quanto spendete tanto voglio dire avete un prodotto pari a quello che avete speso ma ci sono anche portatili decenti no penso in passato a i vari ciui che abbiamo recensito ok i teclast che bene o male sono sempre stati degli ottimi portatili in rapporto qualità prezzo questo black view a 300 euro un ace book 8 ha una serie di caratteristiche basilari sicuramente ma che a mio avviso in questo momento mi fanno proprio propendere per tenerlo anziché andare sempre sugli stessi portatili magari non lo so i b max o comunque portatili che alla fine sono anni che non si rinnovano sono sempre un po gli stessi siamo comunque in un momento dove i processori mobile con amd i nuovi lunar lake che stanno uscendo ovviamente siamo completamente in un'altra epoca rispetto a hardware del genere ma per un utilizzo veramente basilare e per una gestione della posta elettronica gestione file cartelle utilizzo di word navigazione e cose del genere per chi magari non ha nessunissima intenzione di andarsi a prendere gli ultimi asus i a pc o i copilot pc o spendere mille mille e cinque duemila euro per un vivo book cioè e vuole spendere 300 euro di portatile anziché andarvi a buttare magari su qualche chromebook o su qualche portatile da catena da grossa catena di di vendite che alla fine non ve ne fate quasi niente a sto punto io consiglio vivamente di tenere in considerazione portatili del genere io comunque vi lascio giù in descrizione il link al portatile e al coupon probabilmente ci sarà un coupon ci sarà un codice sconto dedicato mio e fatemi sapere voi che cosa ne pensate se in generale avete dei portatili low budget o in passata avete fatto esperienze con prodotti di questa linea e niente scrivetemi un commento e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi